Sono appena uscita dalla doccia e oggi voglio proprio fare i capelli o lisci o mossi ma non voglio utilizzare la piastra perché non voglio assolutamente categoricamente rovinarli quindi proviamo per la prima volta insieme un aggeggio che mi è arrivato che è un simil Dyson composto dal Fon e poi tutte le varie testine intercambiabili per asciugare i capelli e per stirarli o comunque farli mossi e non dovrebbe rovinarli sinceramente non sono molto fiduciosa però proviamo iniziamo ad asciugarli un po' almeno la parte della cute ok ho messo un po' di termoprotettore e adesso cambio la testina e metto questa qui dovrebbe pervenire i capelli mossi e abbastanza voluminosi quindi proviamo sono molto molto sorpresa questo è il mosso che viene, molto carino, è il solito che si vede un po' su TikTok e prima metto l'aria calda poi aggiungo quella fredda per fissare la piega che è stata fatta da quella calda adesso proseguo e poi farò dei change utilizzando questo per fare i boccoli più definiti cioè solo alcuni boccoli più definiti ecco il risultato finale raga sono scioccata ha funzionato anche su di me che sono riccia per fare questi qui più piccolini ho utilizzato questo fatemi sapere che cosa ne pensate e se non lo fate ancora seguitemi c'è G Grazie a tutti.